benvenuti su random gameplay benvenuti su random gameplay ci sono io, Ruka, Grigiorzo e Puliscer Metal non è vero, io ucciso sento è che io non c'ho questo risultato a guardare questi due che si divertono io sono rascosto però me la dà un ragazzo di mano a vero fuori eh no, devi usare un attimo l'audio cosa sanno più a fare si può aiutare in testa non è che l'audio è bassissimo e poi senti il gioco che è sparato a mille una cosa tipo uno c una cosa tipo uno c ok io mi devo ancora prendere una cazzo di arma tu sei zoi non ho bisogno di armi basta che... basta che apri i pantaloni e dai l'istenziale è lì la tua ah no, penso che gli zombie si facciano attirare da quella cosa lì si mi chiamate vedere sul nego art, 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 art 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 ormai è morto ma che ti ho tornato a stimare anche lo staricano in mente puni le tue impressioni su left progetto che tutto tipo che si perde che si ha per foto cindy rompere era era meglio la pazza posto no su cosa faccio scherzo rucato ma cosa ci vuoi se ti ho puto voglio bruciare insieme a criccio l'ho trovato per me lo chiamiamo giovanna oh che maschile grazie benissimo mica se è lento no we need to go up that ladder ti sto guardando no perdo bill giochi 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 hunter di tutto every body fuori in faccia smoker pure questo in faccia la di costi proprio sei un pro porca troia il proprio compro tutto maggio la pure le tue impressioni di quali pro rosa allora vediamo 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 siamo dopo tutti i corti sopporti specifiche che sanno fatte vediamo che mette fissa puntata contro il muro sia molto utile per affrontare le occhi di infected il programma cazzo sta legge avviso perché non ci trovi via di le porte due le macchine non ho mai detto proietto ecco l'antica la realtà per casa poco picio vedete ora che il nostro pubblico e mettersi a cultura su 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 bestia ho bisogno di coccole per questo motivo si salterà tors che cerchere di approfittare della situazione strappando gli vestiti di dosso e facilitare un complesso stupratore è un po' di merda lì sotto figlio di puttana gre lo smoker ehi questo fumante con la lingua lunga bellissima su smoker questo diabolo è infected a v no a v sì l'asso di assurdo bravo 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 viss viss davvero non arrivare a voto v 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 scuola il pomeriggio ea tefra è stata vai da bocca testo 4 non siamo stati noi a guarda chi le speciali che ciò anche avete già finito questi dici minuti tazzo guarda facciamo prima quando si è fatto i giocatori che no quando siamo a 4 guarda difesa generale crifozzo no perchè non so modo la crifo e lui è un esercito un esercizio aiuto aiuto aiutatemi smoker l'accento un testa di vista siamo dai siamo poco tattici questo è quello che si chiama dirlo ma sono direttamente vip a più persone e mo tutti quanti orgasmo perchè stanno curando si stanno curando bec 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 minchia che ninja la carta jesus c'è una witch c'è un'epoca abbatore ci siete che la stessa non mi può spuntilare la parte il certo un cesso al bar uno giudizio non c'è solo il palio la parte della cosa straordinaria la testa per quanto devo che ora farà fotografia del giro del mondo c'è un cerchio uno scaracca che cazzo di... ah... che cazzo di... con una mazza tipicamente americana una mazza da baseball tutti i gialli del Vietnam non te che cazzo, non te che cazzo, non te che cazzo non te che cazzo, non te che cazzo non te che cazzo, non te che cazzo ho visto una cosa che mi caricavo ho fatto la prima fase potevano dappure giocare io ho fatto era giusto per non c'è l'allarme no no non ho la stessa botta all'altro volta che appena cammino cammini dentro c'è niente che è il mio campagna sicuro no, non la sa che successe praticamente era un vicino la stanza sicura no c'era c'era una porta dubbito c'è stato passato io davanti con la porta c'è stato c'è stato è arrivata arrivata e lui e lui e lui è che c'è stato scopo scopo oh no scopo 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 se si arriva alla carica dei 101 dos no, non so io ho cercato la carica dei 101 c'è stato povolissimo gioco 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 ha detto una parola ha detto una parola ecco pure c'era mi sa che sono cosa santa percorso foro per il gioco per questo gioco sito cazzo sono andato a finire charger ancora sto aggiornando non basta ma sei di sotto cristo no culo non mangiarlo che puttana charger di merda mi abbracciato come nessuno perché puttana mi ha tirato di sotto lo fa abbacciato dai ma il gioco di respawno deve aspettare nella prossima stanza eeeh lo pespano un po' più bene no 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 guarda l'intelligenza dell'ia l'intelligenza di tutti se ho messo qua sotto stavamo qui no finalmente piano questi merda 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 bravo io lo sapevo bravo io lo sapevo bravo non dai spara le dani ma quanta capo mi muoverò E' un becchio Solo il gioco dice che c'è Cosa sto vivendo? Si ma sa che se non ti muovi Infatti avevo ragione, questa volta diceva per fortuna E' rimasto così Merda! Non c'è neanche flashplay di questo lato Oh! E' lì! E' abbiamo fallito! Perfetto! E' così fallito E' abbiamo fallito Vabbè ricominciamo Complimenti Ricominciamo Mi si è bloccato il computer E' un po' di sireno E' un po' di sireno E' un po' di sireno Dandi E' un po' di sireno E' un po' di sireno Ogroden GIOCHIIII Dai, non è una... GIOCHEEE Un cazzo Caccia Che cazzo lo zombie nella vasca? Non c'è se non sbaglio Vedo una secca Vedo una secca Oh mio Dio, vengono anche i gadget dell'Efforded2 Tv pazzetti dell'hunter o cappellini a set sovel for the 2 Fantastico Cazzo che aveva visto GIOCHEEE 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 Arrivali con la magliettina di nuovo Dalla superman si trasforma a rin Corrente Oh mio Dio per un pupazzetto l'hunter Per... Dileforted2 Costa 30 euro Un pupazzetto piccolo Vedono pure pupazzetto Lancia granate Sì, sì Vendo anche il cappellino La maglietta 20 euro Non lo so, no Mi spara una felpa questo Sì, una felpa con... Dietro ha disegnato il... Tietro pack line Quanto questo? Che è mate Quarante Mi piace lo sconto Sono veicin qua C'è davanti c'è le due motoseglie In alto a sinistra in cucola dietro c'è tipo Ogni